Ciao a tutti ragazzoli, oggi siamo qui su COD per aprire quella che avete già visto dal titolo non è un contest, è un... non so come spiegarlo bene è una specie di... non concorso, una classifica ecco che sarà su COD, saranno le top 5 kill allora, adesso ci saranno un po' di regole, quindi un po' come partecipare e cose così allora partiamo subito, le regole sono semplici bisogna inviare una clip fatta da se stessi e non da qualcun altro primo secondo, il gioco che può essere trattato deve essere per forza Call of Duty però qualsiasi Call of Duty, quindi Black Ops 2, Black Ops 1, Modern Warfare, Modern Warfare 2, Modern Warfare 3 qualsiasi Call of Duty altra cosa, le clip non devono essere... non dovevano andare a scatti e quindi diminuire la qualità video ma... però sono ammesse clip con presenza di lag e... sono valutate qualsiasi tipo di kill quelle di granate, quelle di arma normale, quelle di Tomahawk quelle di C4, le triple, le quadruple sarà una top 5, niente, spero che l'idea vi piaccia poi altra cosa... non è per forza obbligatorio però preferirei se mi inviaste le clip a 720p perché almeno la qualità video... scusate, vabbè per qui, per l'invito perché almeno così il video potrebbe essere high quality e... vediamo cosa potrei dirvi più... vabbè quella che vedete sotto è una partita di sottofondo, comunque così presa a caso e... a questa... classifica, partecipiate in molti e... e niente ragazzi, per questo video è tutto e... direi di vederci al prossimo video ci vediamo, ciao ciao